Questo splendido aereo giallo spesso lo vediamo volteggiare nei cieli di Fano e in molti si sono anche chiesti chi è a pilotarlo, qual è il suo lavoro, perché lo fa e quindi noi siamo venuti all'aeroporto di Fano proprio per conoscerlo, per conoscere colui il quale è ai comandi di questo aereo, mentre intanto le attività qui all'aeroporto di Fano vanno avanti, noi siamo in una splendida mattinata di sole e incontriamo il comandante Sappignoli che è colui che è ai comandi di questo velivolo, ma l'ho chiamato giustamente comandante, lui è un pilota di linea, un comandante e quella è la tua, la sua attività predominante. Esatto, esatto, il mio lavoro è pilota di linea, sono un comandante su aereo di lungo raggio, sul 787, il Boeing e quello però è per carità bellissimo lavoro, ma è un lavoro, è un lavoro dove si sta per aria, però rimane pur sempre un lavoro. Però ha questa passione, questo hobby del volo acrobatico, spesso la vediamo volteggiare per i nostri cieli, com'è nata, perché questa... Allora, tutto parte da un amore folle per il volo ovviamente, se no non sarei qua nei miei giorni di riposo a volare, ecco, uno può pensare strano, uno che vola tutto il giorno, ma questo, diciamo volare con queste tipologie di aereoplani è il volo a parere mio più bello che ci sia, quindi uno soddisfa le proprie passioni al massimo e quindi tutto nasce per la passione del volo. Di lì poi si entra in modo dell'acrobazia che secondo me è l'espressione massima del volo perché è una disciplina, è una disciplina che agli occhi di molti può sembrare un semplice volo folle, ecco, e invece quello che io tengo sempre a chiarire non è un volo folle, è tutto dietro ogni manovra, ci sono ore e ore e ore di allenamento, preparazione a terra, studio, studio aerodinamico della manovra, non è un'improvvisazione, nulla, nulla improvvisato perché poi diventerebbe pericoloso. Io vedo però che c'è uno strip qui sulla tuta che ricorda un'associazione. Questa associazione è un'associazione benefica, si chiama 27 Aerobatics, se lo vogliamo dire in inglese, è un'associazione che promuove il volo e il volo acrobatico, ovviamente è abbastanza dura perché cerchiamo sempre qualche piccolo sponso, ci sovvenzioniamo da soli, quindi non è una vita facile però tutto ciò che noi possiamo raccimolare cerchiamo di donarle in beneficenza a chi magari è meno fortunato di noi e ne ha bisogno. Allora comandante, io adesso la lascio a quella che è la sua attività ludica preferita e quindi adesso la ammireremo in qualche evoluzione e complimenti. Grazie e spero che vi divertiate.